Musica Oggi abbiamo raggiunto un risultato che io considero estremamente importante, questo nuovo incontro con il Presidente Sayeta, insieme a Ursula von der Leyen, a Mark Root, è un ulteriore passo importante verso la creazione di un vero partenariato tra la Tunisia e l'Unione Europea che possa affrontare in maniera integrata la crisi migratoria e lo sviluppo per entrambe le sfonde del Mediterraneo. Il partenariato con la Tunisia per noi è da considerarsi un modello per costruire nuove relazioni con i vicini del Nord Africa. La prossima conferenza internazionale sulla migrazione che si terrà a Roma la prossima domenica, che la prossima domenica 23 luglio avrà il Presidente Sayed tra i protagonisti. Io non sono mai mancata alle commemorazioni della strage di Via D'Amelio, non mancherò neanche quest'anno ovviamente. Molti sanno come ha cominciato a fare politica. Il paradosso dei nazionalisti, dei fratelli d'Italia che vogliono portare a compimento i mai sopiti sonni della secessione leghista. Questo stanno facendo, questo va denunciato con forza, perché è un governo che con l'arroganza delle sue forzature quotidiane ha suggellato un patto di potere con un orrido baratto. Il presidenzialismo per l'autonomia differenziata. Ci dobbiamo mobilitare in tutto il Paese. Una grande e definitiva pace fiscale tra fisco, agenzia delle entrate e contribuenti italiani è fondamentale. Sono milioni di italiani ostaggi da troppi anni del fisco e dell'agenzia delle entrate. 10, 15, 30 mila euro che si trascina da anni, chiudiamola. Gli ne chiediamo una parte e azzeriamo tutto il resto. No Salvini, sono gli italiani onesti che pagano le tasse ad essere ostaggio degli evasori fiscali. Ancora una volta premiati i furbi e i criminali ai danni dell'Italia onesta. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Buon avvio di settimana. Allora nella copertina di Lavina Bruno alcuni dei temi di cui si discute. Come avete sentito, il tema della giustizia lo riprenderemo e lo dipaneremo oggi in maniera approfondita. C'è tutto il tema che riguarda l'autonomia differenziata, ma anche la proposta rilanciata da Salvini di pace fiscale per chi ha pendenze entro i 30 mila euro, non, dice Salvini, per i grandi evasori fiscali, per chi non paga le tasse. Intanto stamattina Giorgia Meloni sarà a Bruxelles per il vertice tra Unione Europea e Unione Africana all'indomani della firma di questo memorandum ieri in Tunisia tra Unione Europea e Tunisia. È un'intesa che prevede risorse per circa mezzo miliardo di euro, da una parte per gestire i flussi migratori, ma anche per sviluppare intese sia commerciali che sull'energia. E avete sentito la Premier annunciare appunto per domenica prossima a Roma una grande conferenza sulle migrazioni con il presidente tunisino Sayed e altri leader dell'area mediterranea. Poi dicevamo la giustizia perché oltre a ricordare quello che avete sentito, cioè che parteciperà alle commemorazioni per la strage di Via D'Amelio il 19 luglio, Giorgia Meloni ieri ha fatto quello che molti giornali dicono ha sconfessato il ministro Nordio. Che cosa ha detto? Ha detto sul concorso esterno in associazione mafiosa capisco il ministro Nordio, lui è un tecnico, da tempo approfondisce questo argomento, ma ora ci sono altre priorità. E il ministro ha subito fatto sapere, sono in perfetta sintonia con Giorgia Meloni, peraltro questo punto non è nel programma di governo. Insomma molti temi di cui parlare, oggi lo facciamo con Carmela Sorella che saluta e ringrazio. Grazie a te, buongiorno. Bentornata, giornalista e scrittrice, credo al primo romanzo, adesso ne parliamo. Sì, un primo romanzo che tra l'altro proprio affronta il concetto di un nuovo passo rispetto al problema delle migrazioni. Ecco, e quindi ne parleremo perché credo che la protagonista è un'attivista insomma. E' un'attivista per i diritti umani, sì. Buongiorno, buongiorno a Massimo De Manzoni, condirettore della Verità. Ciao Massimo. Buongiorno. Buongiorno a te. Salute del buongiorno ad Angela Azzaro. Ciao Angela. Buongiorno. E poi a proposito di tanti problemi economici che sono tutti sul piatto, do il bentornato d'Angelo Camilli che è presidente di un'industria. Bentornato, presidente. Allora, parto proprio da Carmela Sorella. Allora, questa sorta di partenariato, di principio di partenariato firmato ieri in Tunisia è un buon segno, diciamo c'è un grande attivismo della Premier all'estero e nel Nord Africa in particolare, però potrebbe essere l'inizio diciamo di una sorta di partenariato, credo l'abbia detto Ursula von der Leyen ieri, da espandere ai paesi africani, da moltiplicare. Ma io ti devo dire che ieri vedere queste due donne bionde occidentali che incontravano un presidente tunisino che in questo momento sta esprimendo una svolta importante verso una dittatura. Ricordiamo tutti i benali, ricordiamo tutte le primavere arabe, ricordiamo quello che è stato e la speranza di sistemi di governo diversi per governare soprattutto la costa del Nord Africa, considerate anche le migrazioni. E noi ci troviamo con un presidente in Egitto, vedi caso Regeni, che è quello che è e quindi sta cancellando i diritti fondamentali. Il presidente della Tunisia sicuramente in questo momento è un presidente super contestato, dove però la contestazione non è possibile perché si finisce in galera. La Tunisia è stata un paese bellissimo, io ci sono stata più volte, è un paese pieno di giornali, pieno di fantasia, è un paese che noi conosciamo bene per via di Mazzara del Vallo, i pescatori, ci sono contiguità culturali, storiche e quant'altro, che purtroppo ha imboccato una strada autocratica. Allora, in questo momento, vedere due espressioni, tra l'altro, che ci hanno dato speranza, perché una presidente della Commissione europea, la Ursula von der Leyen, una donna, un personaggio tra l'altro portato da un'altra donna, perché questo è importante, la Angela Merkel, che tra l'altro in Germania ha accolto un milione di migranti, che venivano però soprattutto dall'est, quindi dalle realtà asiatiche e quant'altro, era un qualcosa che ci diceva, forse finalmente cambierà qualcosa. Non dobbiamo dimenticare, nella Turchia, dove ci sono non dei campi profughi, ma dei campi di contenzione, dei campi dove sono negati i diritti fondamentali, lo dicono tutti, non è un problema, è un problema oggettivo, rilevato, conosciuto. E poi siamo davanti anche alla Libia, a fare quant'altri, cioè abbiamo creato i lager, perfino coloro che portano i migranti in Europa e evitano la Libia per la ferocia di questi luoghi che sono in Libia. Immaginiamo ora in Tunisia che prenderà una dittatura dei soldi dall'Europa. Certo, abbiamo detto per programmi, integrazione e quant'altro, ma una dittatura non credo che sia questo sistema di governo affidabile. Quindi voglio soltanto dire, immaginare che la Tunisia possa diventare un modello, sicuramente ci vuole una cooperazione tra i governi, però è sulle migrazioni che deve cambiare il passo, mi spiego, e dico solo questo lasciando subito agli altri la parola. Noi non possiamo considerare e usare un linguaggio di difendere le nostre coste, da chi? Da donne e bambini? Da gente disperata? Da gente che ha perso tutto? Dalle guerre? Dalla siccità? Dalla mancanza di futuro? Il concetto è un altro. Perché le organizzazioni internazionali, invece di condannare certe situazioni, non si creino sui luoghi di partenza dei presidi dove vengono forniti i documenti? Cioè non c'è alternativa a questa migrazione. C'è una mafia che sta nel Nord Africa, criminale, c'è una mafia occidentale che sta in Italia, che sta in Grecia, che sta in Spagna, e le due mafie discutono, perché questa è gente senza diritti. E fanno traffico di esseri umani, diciamola così. Allora, sentiamo Massimo De Manzoni su questo memorandum. Che pensi Massimo? È un primo passo? È stringere dei patti con degli autocrati, come diceva adesso Carmela Sorella? Che cos'è? Beh, è certo che stringere dei patti con degli autocrati. È una cosa che facciamo in tutto il mondo, con tutti quanti. Non dimentichiamo che il primo paese repressivo è la Cina. Ecco, la Cina commerciamo, trattiamo, facciamo... Anzi, tra un po' ci metteremo nelle sue mani per la mitica transizione ecologica. Ma dissento alla radice da quello che dice Carmela Sorella, nel senso che bisogna che ci intendiamo. La difesa dei confini è quella su cui si basa l'organizzazione delle nostre società, dei nostri paesi, dei nostri... Perché l'alternativa è che non ci siano confini, che quindi scompaiano le nazioni, scompaiano i paesi esattamente come sono concepiti adesso. Un conto è un'immigrazione regolata e in qualche modo anche incoraggiata per certi versi, perché sappiamo che per alcune situazioni è addirittura necessaria. Ma un altro è un'immigrazione selvaggia che si autodetermina e che noi siamo costretti a prenderci tutti quanti. Ora, in questo quadro è chiaro che due sono i sistemi. O quello, il blocco navale, come venne agitato anche in campagna elettorale, oppure accordi con i paesi di partenza. Si è fatto con la Turchia, si fece a suo tempo con Gheddafi, ma dopo abbiamo visto che le primarie arabe, che per alcuni sono un mito positivo, sono diventate invece un disastro in quei paesi. E non vedo perché non si possa fare con la Tunisia, che è il paese dal cui si vengono la maggior parte delle persone clandestine, che in questo momento sbarcano in Italia. Poi è evidente che in cambio di una sovvenzione economica ci vorrà anche una sorveglianza che non succedano cose tipo quelle che succedono in Libia, dove ormai non essendoci più un governo centrale, non essendoci più un dittatore con il quale avere rapporti di do-up-des, perché questi sono rapporti di realismo, puro e semplice, è chiaro che si può inserire nell'accordo anche i controlli nei campi che vengono organizzati eventualmente lì. Ricordo che in Turchia questo non si fa, gli abbiamo dato miliardi pur che bloccassero le immigrazioni. Il famoso milione di persone dalla Siria che si è presa la Merkel, a un certo punto la Merkel ha detto no, adesso basta, chiuse i rubinetti, diamo i soldi, l'Unione Europea dà i soldi alla Turchia, perché questo flusso deve finire. E così è stato, e così è stato. Non è finito il flusso però. Allora posso, posso, adesso lo riprendiamo il discorso, devo sentire sia Angela Zara sia il Presidente Camilli, però dobbiamo fermarci qualche minuto per la pubblicità. Allora sentiamo Angela Zara sul famoso, questa famosa intesa con la Tunisia, cioè la Meloni poi, ce lo spiegava anche Massimo De Manzoni, deve fare professione di realismo, perché comunque con questi paesi e con chi li guida bisogna fare i conti. Intanto condivido molto le parole di Carmela Sorrento, che saluto, non conosco personalmente, ma è una giornalista che stimo tanto e ho condiviso totalmente le sue parole, sicuramente leggerò il romanzo, a questo punto mi incuriosisce tantissimo, poi ci dirai anche il titolo, perché io lo voglio assolutamente leggere, e mi permetto di aggiungere e di sottolineare tre cose, eccolo. Lo vedete, vera, eccolo qua. Vera e gli schiavi del terzo millennio. Per Marietti, 1820 edizioni, perché bisogna citare sempre anche chi fa l'editore. Prego. Bene, allora lo leggerò sicuramente, vera, appunto mi permetto di sottolineare tre questioni. Gli autocrati, è una strada che abbiamo già visto, non porta da nessuna parte, quindi non è solo una questione di moralismo, che comunque in questo caso ci sta pure, ma è una questione appunto di realismo. In Libia gli accordi con gli autocrati hanno portato ai campi che il Papa chiama lager, quindi è una strada che non porta niente. Comunque, se proprio vuoi fare gli accordi, li fai nominando i diritti umani, vincolando i soldi ai diritti umani, non facendo finta di nulla. La seconda questione è, questo è un fenomeno strutturale, e come tale va affrontato in maniera concreta. Allora, oggi servono almeno tre cose, un soccorso in mare degno di questo nome, i corridoi umanitari, e aggiungo come terzo elemento quello che diceva prima Carmela Sorella, cioè dei luoghi da dove si parte si possano avere i documenti immediatamente. La terza questione è quella dell'Europa che vogliamo costruire, ma è l'Europa fortezza o l'Europa della democrazia? Questa non è una questione banale, è una questione sostanziale rispetto alle sfide che andremo ad affrontare, che sono sfide legate alle immigrazioni, alle questioni economiche e alle questioni democratiche. Quindi l'Europa fortezza o l'Europa della civiltà e della democrazia? Questa è la grande questione. Scusa Massimo, un tweet di replica proprio dal Presidente Camilli. Non so, non mi sembra che la difesa dei confini e la democrazia siano due concetti in contrasto tra di loro. Semplicemente questo. Ma la difesa da cosa? Contra fortezza e democrazia è un concetto logico. confini e da delle donne che fuggono dalla fame e dalla povertà. E quella è la questione, non i confini dagli eserciti armati o dagli invasori dittattoriali, li stiamo difendendo da dei bambini che vogliono di male e da delle donne che fuggono da guerra e povertà. C'è una misura nelle cose, non li possiamo accogliere tutti. Ma siamo tutti d'accordo su questo. Chiedo scusa, noi su questo siamo tutti d'accordo, non li possiamo accogliere tutti, ma ci vogliono le regole. E le regole possono e devono ispirarsi a principi di umanità. Di che stiamo parlando? Il discorso che faceva la professoressa sull'Europa fortezza. L'Europa fortezza deve essere forte dei suoi principi. E questa è la fortezza. Se adesso la Cina invaderà Taiwan, che farà l'Europa? Porta avanti i suoi principi o anche lì stringe la mano a chi governa? Questa è una bella domanda. Che diavolo di me che fosce? C'è una domanda che viene prima. Che faranno gli Stati Uniti? La Cina non abbiamo mai posto questioni di diritti umani nelle nostre trattative. Però detto questo, il problema è che quello che noi chiamiamo accoglienza poi si traduce nella pratica inghetti e degrado nelle nostre città. Per cui quella non è accoglienza. Allora, hai ragione perfettamente. Vorrei però questo punto provare a chiarirlo. Siccome tutti non li possiamo accogliere bisogna che ci siano delle regole. Allora, perché penso di avere un po' titolo a parlarne? Perché ho diretto un master universitario sulle migrazioni. Quindi ho avuto l'opportunità di sentire tante voci e di far partecipare tanti punti di vista. Io non sento. Su questo, non sente? Alziamo un po' il ritorno a Massimo De Manzoni se no... Il volume è bassissimo. Vediamo che possiamo fare, Massimo. Allora, Massimo, era soltanto non per una vis polemica ma per cercare di venirne a capo. Ripeto, mi sono occupata tecnicamente di questo argomento dirigendo un master sulle migrazioni, un master universitario. Ci sono state molte voci, quindi tanti punti di vista, interni, esterni, favorevoli, contrari, perché la polifonia serve a questo. Il discorso qual è? Che in Italia ci sono molte procure che stanno facendo delle indagini proprio sulla truffa dell'accoglienza di cui non si parla per niente. Allora, il dato qual è? Le regole non ci sono, le regole non ci sono perché questa è un'umanità senza diritti. Allora, la mafia, ma perfino apparati dello Stato, perfino realtà imprenditoriale, qui abbiamo Camilli, perfino realtà imprenditoriale abusano di un sistema dove non si vogliono dare i documenti. Quindi il problema non è che devono arrivare tutti, ma si è creata con gli hate speech in Italia, quindi con questi linguaggi dell'odio che vanno da tantissimo tempo avanti, un rifiuto nei confronti di questa realtà. Sono brutti, sporchi, cattivi, degradano le nostre città, che vengono a fare perché non restano a casa loro. Allora, è su questo che dobbiamo intervenire. E' qui che dobbiamo cambiare la mentalità perché le regole sono indispensabili, non possono venire tutti. Allora, posso, presentiamo un'altra voce dal punto di vista delle imprese perché a proposito di questa questione mi viene in mente, insomma non è notizia, è una notizia abbastanza recente, del decreto flussi straordinario che il governo, no? Nei giorni scorsi ha annunciato, mi pare, nel trenio 23-25, 400 mila e passa migranti legali, si dice. Credo che la richiesta delle aziende fosse del doppio, no? Quindi anche questa è un'altra questione che impatta molto sulla nostra economia, Presidente. Sì, beh, è evidente. Ma il tema, come dimostra la discussione in corso, è un tema delicatissimo. C'è un problema ovviamente diciamo umanitario grandissimo, mi sembra in dato di questi giorni 26 mila morti in mare negli ultimi dieci anni. Quindi è evidente che è un tema affrontato da tanti, è difficile da affrontare e da arginare. Sicuramente noi abbiamo bisogno del sostegno dell'Europa, su questo non c'è dubbio. Non possiamo da soli affrontare un problema di questo genere, sia da un punto di vista finanziario che da un punto di vista dell'accoglienza. Non ce la possiamo permettere, non siamo in grado di farlo da un punto di vista organizzativo. Del resto, purtroppo, devo dire, in termini pragmatici, non ci scegliamo neanche i nostri interlocutori. Oggi la Tunisia è un paese da cui provengono e da cui c'è in prospettiva, e questo lo dicono anche gli osservatori internazionali, anche nei prossimi anni, flussi migratori molto importanti. Quindi, purtroppo, dobbiamo affrontare in maniera pragmatica questa situazione. L'aiuto e il coinvolgimento dell'Europa è fondamentale, l'impatto sull'economia è sicuramente forte. Peraltro, il tema immigrazione lo dobbiamo anche associare al calo demografico che vive il nostro paese e i paesi europei. Quindi, non c'è dubbio che se riuscissimo a regolare e organizzare i flussi migratori anche in questo senso. Quindi, riuscire ad accogliere persone anche attraverso percorsi formativi che possono essere realizzati sia nel nostro paese ma anche nei paesi di provenienza. Certo. Per accogliere persone che possono integrare diciamo le carenze che oggi ha il mondo del lavoro e le nostre aziende, questo sicuramente potrebbe essere una direzione importante da seguire che potrebbe dare dignità, accoglienza, dignità, anche in reazione proprio ai discorsi che venivano fatti, a chi viene accolto nel nostro paese con una piena integrazione effettiva da questo punto di vista perché poi accoglie le persone che non hanno una prospettiva di vita, non hanno una prospettiva di lavoro e di vita dignitosa ovviamente questo può generare ulteriori problematiche. A chiusura di questo capitolo che vorrei portarvi sul tema anche della giustizia, voglio dire un'altra cosa perché Carmela Sorella diceva e qui ci vorrebbero dei presidi nei paesi di origine, una volta si è parlato addirittura delle Nazioni Unite ma diciamo limitiamoci all'Unione Europea, e questa è un'altra di quelle cose di cui si è sempre molto parlato poi c'è una disunità europea questa è evidente c'è il business che però c'è il business non c'è dubbio e c'è il business però quella sarebbe potrebbe essere una soluzione considerando che è una soluzione per far venire in Europa diciamo migranti in maniera regolare e anche a seconda delle richieste del mondo produttivo credo che comunque poi proseguirebbero diciamo i viaggi della speranza drammatici al di là di questo ecco un giro rapidissimo su questo Massimo ma non c'è dubbio ce ne parla da decenni di questo sarebbe la soluzione ottimale è ostacolata da varie cose non ultimi i governi dei paesi da cui proviene quel tipo di immigrazione perché sono i primi spesso corrotti non è che noi non abbiamo aiutato quei paesi abbiamo inondati di soldi il problema è che i soldi sono rimasti ai potenti e ai governanti e non sono arrivati alla popolazione per cui la popolazione continua a avere la necessità di emigrare perché si ritrova in una situazione di povertà assoluta se quei soldi fossero stati usati per migliorare la situazione economica sociale di quei popoli avremmo diminuito l'immigrazione e questo era il principio base iniziale non è successo per i motivi che stavo esponendo cioè che i governanti si sono accaporati le risorse e non le hanno fatte arrivare alla popolazione non nei termini che doveva Angela Angela Azzaro vediamo così i presidi pensati in questo modo dovrebbero essere nonno il luogo della costruzione dei muri ma il luogo del dialogo e anche del realismo perché se noi come diceva anche Carmen la sorella abbiamo delle regole stabiliamo delle regole questa cosa fa sì che davvero riusciamo a governare il fenomeno migratorio che è strutturale non è legato solo a scelte che vengono fatte ma a questioni più profote legate all'ambiente alle questioni geopolitiche quindi sarebbe non utopia ma sano realismo poter veramente affrontare in maniera razionale un fenomeno che c'è e se non lo governiamo otteniamo solamente di avere più problemi anche in Italia o in Europa ma soprattutto di avere più morti non possiamo più vedere questi morti nel Mediterraneo questa è la grande questione che ci unisce e unisce sicuramente anche me Manzoni allora come li fermiamo questi morti allora dobbiamo porci in maniera realistica con questa domanda eh allora vorrei aggiungere un tweet è anche un problema di disumanizzazione di quello che è il sistema Europa che è straordinario ed è la nostra forza la nostra ricchezza quindi non lo possiamo così stritolare coriandolizzare in questa maniera assurda e dall'altro quindi disumanizzazione deumanizzazione la deumanizzazione quando a un essere vivente torniamo la sua umanità ai migranti è stata tolta la loro dignità il loro fatto di essere persone il diritto di cercare un futuro degno di questo nome nelle regole torno a ripetere regole 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 sono tutti coloro che si occupano di migrazione vogliono le regole ma sono i governi che non le mettono giusto per chiusare il tutto 1.400 questo è il dato mi pare di aver letto arrivi nelle ultime 24 ore a Lampedusa con ormai abbiamo imparato a conoscere l'hot spot dell'isola che ospita oltre 2.000 persone quindi in condizioni potete immaginare quali nonostante sia gestito da un paio di mesi dalla croce rossa italiana voleva solo una battuta rispetto a quello che ascoltavo il punto fondamentale rimane la collaborazione dei paesi di provenienza perché come giustamente è stato detto purtroppo spesso gli aiuti vanno nelle tasche seguono altre strade tema vero è la loro collaborazione sia per il rispetto dei diritti umani che per quello che riguarda una migrazione di tipo economica controllata come stavamo dicendo per farlo da soli non ce la facciamo non abbiamo la sufficiente forza l'Europa deve intervenire complessivamente su questo perché ha una potere di persuasione rispetto anche a questi paesi che storicamente non hanno certo una reputazione come veniva detto molto positiva da questo punto di vista è fondamentale quindi è importantissima ed è fondamentale per ottenere la collaborazione di questi paesi una pressione forte da parte del nostro continente allora tema di grande complessità come sapete è anche molto divisivo come in parte lo è stato tutto il dibattito degli scorsi giorni della scorsa settimana sulla giustizia su diversi punti ma in particolare sul concorso esterno in associazione mafiosa rilanciato come sapete dal ministro Nordio ieri ha parlato anche Giorgia Meloni insomma mettendo fine almeno a questo capitolo allora sentiamo un po' di reazioni guardi sul tema del concorso esterno che io comprendo benissimo insomma sia le valutazioni che fa il ministro Nordio che sono sempre molto preciso sia diciamo le critiche che possono arrivare mi concentrerei attualmente su altre priorità sull'associazione esterna è da un punto di vista giuridico credo che abbia ragione il ministro Nordio è un tema tecnico giuridico il punto è può esistere nel nostro paese una norma introdotta per divinazione giurisprudenziale questo è il punto oppure ci vuole una legge che regolò Nordio non intendeva questo Nordio ha detto esattamente questo si è fatto carico di un problema storico che però ripeto non è nel programma non è nel programma di governo non è è meno male questo che penso una battuta prendo atto che non è nel programma di governo non è nel cronoprogramma di cui ha smentito il vice ministro non è nel cronoprogramma di cui abbiamo discusso la scorsa settimana è una norma che se non lo tolca se stanno a posto così va bene separare il pubblico ministero dal giudice perché oggi la costituzione delinea un equilibrio fatto anche di controlli come abbiamo visto del giudice sul pubblico ministero che sono controlli fondamentali mi riferisco proprio all'ormai famoso istituto dell'imputazione coatta se si modifica questa architettura costituzionale si porta fuori dalla giurisdizione il pubblico ministero io mi chiedo questo pubblico ministero si controllerà da solo o sarà controllato da qualcun altro e da chi il cittadino ha diritto a che cosa ad avere un giudice sulla cima del triangolo alla base di avere pubblico ministero e difesa con una distanza uguale isoscele è un triangolo isoscele e quando si parla di controllo sull'esecutivo questo è un diversivo eccentrico è un diversivo che non c'entra nulla cioè lei dice questo governo è più che una preoccupazione quella di San San Francisco non è una preoccupazione è un diversivo perché questo governo lo dico con molta fermezza nessuno si sognerà mai neanche di proporre neanche in un'ipotesi remota una forma e passerà sul mio cadavere una forma di controllo del pubblico ministero Allora abbiamo voluto riproporvi anche un passaggio della puntata che abbiamo fatto sabato scorso perché ci sembra molto illuminante chiarificatore rispetto ai temi di cui stiamo parlando Massimo De Manzoni mi pare di aver capito concorso esterno dell'associazione mafiosa in questo momento è una fattispecie perché non è un reato è una fattispecie giuridica che non si tocca appunto il diciamo il mood e ci sono altre priorità mentre il governo nell'arco della legislatura così ci capiamo vuole mettere mano alla separazione delle carriere questo è un po' no? la sintesi Sì è una sintesi perfetta effettivamente non è una priorità anche se il problema è che diventa tutto politico ha un aspetto molto tecnico molto tecnico e se si ascolta bene quello che dice Nordio si capisce che non è un tentativo di depotenziare la lotta alla mafia ma visto che appena si parla di queste cose c'è subito si alzano i muri gli schieramenti non se ne può parlare a livello a livello tecnico diventa subito una polemica politica non è il momento mi sembra che ne abbiano accumulate già abbastanza di polemiche fammi dire brevissimamente che non ho condiviso il comunicato di Palazzo Chigi perché non vedo la tenaglia le tre inchieste di cui si parla sono tre inchieste completamente separate non c'è in questo momento una manovra tenaglia e quindi evocarla è stato sbagliato dal mio punto di vista anche perché arroventa il clima mentre invece la separazione del carriere era nel programma di governo è un provvedimento che io personalmente condivido altre possono non condividere ovviamente ma su quale si può dibattere e sicuramente non è la fine della democrazia visto che esiste in altri paesi democratici questa cosa altrimenti bisogna che cominciamo a ridefinire i perimiti della democrazia dobbiamo cominciare a parlare di che cos'è la democrazia perché non è possibile che se in paesi di solide fondamenta democratica o almeno tali riconosciute c'è la separazione del carriere quella separazione del carriere sia definita un attentato alla democrazia Carmen come hai vissuto questi giorni di problemiche incendiarie sulla giustizia che te ne pare io me ne sono sempre occupata perché ho una formazione giuridica quindi ho continuato a seguire queste cose sia per interesse diciamo da cittadino professionale e anche per il mio mestiere ti devo dire per esempio sulla storia dell'abuso d'ufficio mi ha colpito perché c'è una legge del 2020 che praticamente lo ha riformato è una legge che tra l'altro di cui effetti ancora non si vedono concretamente per cui ecco quello che rilevo è proprio questo fatto di ogni volta aggiustare le cose a seconda di quello che è il messaggio da passare noi facciamo questo mestiere però voglio dire rispetto ai diritti e ai principi che governano un paese no questo non è possibile però i sindaci tutti di ogni colore lo chiedono però lì era stata già riformata per cui non era semplicemente la legge che faceva da ostacolo all'esercizio il mancato rispetto della legge c'erano stati degli aggiustamenti volevo soltanto dire che questo diciamo poteva comportare e suggerire un comportamento più più oculato invece di abolirlo troviamo delle vie intermedie come per esempio per quelle che sono le vicende che riguardano adesso il reddito dei più poveri invece di abolirlo modifichiamo e controlliamo il sistema ecco venendo al tema di cui si stava parlando quindi il concorso esterno ma il discorso è che per evidenti o più che il concorso esterno lasciamolo perdere che non c'è tempo per parlare di tutto la divisione tra i due la separazione tra la magistratura giudicante e la magistratura inquirente ma è evidente che sia così io penso ai tanti film americani dove c'è il giudice sul suo scranno con il martelletto poi c'è il pubblico ministero poi c'è la difesa il pubblico ministero nel sistema anglosassone non segue un percorso eletto è un'espressione molto contigua al potere è espressione di quel sistema il discorso è che sicuramente in altre realtà anche europee c'è una separazione delle carriere ma è altrettanto vero che i sistemi come diceva giustamente prima qualcuno adesso non ricordo esattamente i sistemi hanno nel dibattito che avete trasmesso hanno una loro armonia hanno una loro chi controllerà il pubblico ministero cioè questo è un problema serio non è un problema da sottovalutare il sistema lascia desiderare cosa vogliono i cittadini e noi per primi la giusta durata e le imprese e le imprese la giusta durata del processo vogliono un sistema che garantisca la giustizia vogliono una situazione dove non si finisce in un trite carne e non se ne viene a capo per cui non arrivano gli investimenti da una parte e chi deve vantare un diritto a quel punto non va più dal magistrato allora voglio chiedere però questa cosa a Camilli perché nel questo poi è costume italiano lo conosciamo cioè nelle infinite contrapposizioni politiche dal suo punto di vista però tutto questo impianto adesso il disegno di legge nord diciamo è un primo passo poi appunto ci sarà forse la separazione delle carriere e altre cose tutto questo va nella direzione di sveltire l'organizzazione ai tempi della giustizia o no dal suo punto di vista perché mi pare che questo sia la priorità per tutti guardi l'unica constatazione credo che si possa fare è che di riforma della giustizia se ne parla da decenni e non si fa quindi il problema è metterci le mani sulla riforma della giustizia questo è un tema ogni volta che si affronta si scatena dibattito politico si scatenano opposizioni di qualunque tipo e il risultato purtroppo è che da decenni parliamo dell'inefficienza della giustizia ai tempi sia dal punto di vista della giustizia penale che da quella civile quella penale è incivile in un paese che un processo possa durare 10 anni 15 anni per poi trovarsi assolti così come sulla giustizia civile ha un impatto sulla vita dei cittadini perché poi ha anche un impatto sulla vita dei cittadini tutti i giorni così come ha un impatto sulla vita economica del paese spaventoso giustizia civile ed amministrativa ma non ci si mette mai le mani questo è un tema fondamentale bisognerebbe avviare un dibattito serio pragmatico scevro secondo me ma lei lo intravede questo pragmatismo o no? purtroppo non mi sembra nel senso per esempio il tema della riforma sulla giustizia è anche uno dei temi nell'ambito probabilmente ne parleremo dell'attuazione del PNRL l'Europa ci ha dato questi 200 miliardi di finanziamenti in cifra enorme perché dovevamo attuare riforme tra queste riforme c'è anche la riforma della giustizia proprio per portare il nostro sistema al passo con i tempi dell'Europa eccetera eccetera a oggi finora non si vede un cambio di passo di questo tipo non si è visto nei governi precedenti anche questo governo sta tentando di ritrodurre il tema io mi auguro che si comincia a fare una discussione pragmatica seria che vada diciamo incontro poi ad un miglioramento della qualità dei cittadini e delle imprese questo è un tema fondamentale sia di civiltà ma anche con un impatto economico fortissimo allora vado a pubblicare poi sento Angela Azzaro su questo tema anche questo tema così divisivo come sapete tra poco allora Angela sentiamo Angela Azzaro su tutto il capitolo giustizia no anche perché a onore del vero lo stesso Nordio e lo sottolineava la premier Meloni cioè da tantissimo tempo da ex magistrato diciamola come vogliamo su questo argomento sul concorso esterno dice la sua e quindi diciamo non è tacciabile di incoerenza poi un altro discorso è l'opportunità di mettere nel menu tante pietanze sapendo che il rapporto tra politica e magistratura è un rapporto molto delicato te la metto così guarda su Nordio oltre alla coerenza io aggiungerei anche la competenza perché tutto si può dire a Nordio forché non sia una persona preparata non sia una persona che quando parla sa di che cosa parla quindi più che entrare nel merito delle singole questioni io vorrei fare un discorso anche su storico politico su quello che è successo negli ultimi anni nel rapporto fra politica e giustizia perché una cosa è certa la riforma va fatta cioè la riforma sulla giustizia è necessaria allora però in che contesto avviene avviene dopo dieci anni di cultura giustizialista cultura populista dove da una parte la destra aveva comunque il peso di Berlusconi che sicuramente non aiutava a fare un dibattito sereno dall'altra c'era una sinistra schiacciata sulla posizione della magistratura e anche sulla posizione poi prettamente dei 5 stelle allora oggi la questione è capire se questo dibattito serissimo che riguarda l'equilibrio tra i poteri dello Stato quindi il cuore della democrazia si può fare con alcune caratteristiche che sono da una parte una destra che riesce ad usare e a portare avanti questo tema senza usarlo come un grimaldello senza farne una questione politicista dall'altra la questione sulla sinistra se riesce ad essere una sinistra che ha un profilo autonomo rispetto sia alla magistratura sia a quello che è stato il giustizialismo in questi anni quindi vedremo come queste due forze politiche sapranno andare alla discussione e alla riforma fondamentale per il Paese in questo momento rispetto alla destra però devo registrare appunto dei primi intoppi sicuramente il comunicato di Palazzo Chigi quello del famoso Fonte di Palazzo Chigi che accusava la magistratura di complotto è stato un passo falsissimo è un passo che da subito ha minato la discussione e l'ha portata su un piano che non aiuta la democrazia non aiuta il dibattito parlamentare e neanche i cittadini a capire che cosa sta accadendo e poi vedo come il dibattito sia paradossalmente più che tra maggioranza e opposizione poi dentro la maggioranza allora probabilmente una riforma così seria richiederebbe da parte di chi ci governa una chiarezza intanto interna fra di loro perché Nordio sicuramente diceva delle cose anche su cui aveva studiato a proposito del concorso esterno però probabilmente prima di parlare dovrebbe consultarsi almeno con la Presidente del Consiglio stessa cosa vale nel rapporto tra Fratelli d'Italia e Lega cioè vedo uno scontro interno alla maggioranza che non aiuta quella serenità di cui invece questo dibattito ha bisogno soprattutto hanno bisogno i cittadini e le cittadine per capire che cosa è meglio che cosa fare di cosa stiamo discutendo davvero voglio aggiungere una cosa che oggi c'è una lunga lettera al giornale di Marina Berlusconi che in sintesi dice mio padre viene perseguitato anche da morto in riferimento e soprattutto all'inchiesta della procura di Firenze tra le altre cose scrive Marina Berlusconi contro Cosa Nostra nessun altro esecutivo ha mai fatto tanto ma tutto questo non basta riferimento agli esecutivi guidati da Berlusconi padre la lettera scarlata giudiziaria che marca l'avversario resta indelebile li sopravvive e il nuovo obiettivo è chiaro la damnazio memorie scrive Marina Berlusconi e poi insomma la potete approfondire allora adesso vedo le cartine già dell'Italia quindi sta per arrivare Paolo Sottocorona che dovrebbe raccontarci una settimana infernale dal punto di vista del clima tanto che mi pare il Times ieri o l'altro ieri ha titolato Roma The Infernal City un po' ingeneroso come titolo perché si può essere del parere che Roma ha tanti problemi ma insomma il caldo non riguarda soltanto Roma ma insomma questo è un problema che riguarda il Times prima di andare da Paolo volevate aggiungere qualcosa un flash indubbiamente fa bene la ricostruzione storica giustizialismo necessità di riforme e quant'altro però indubbiamente ecco ci si deve rendere conto che i percorsi di cambiamento si fanno in condivisione quando è possibile mi verrebbe da chiederti bisogna comunque ascoltare ascoltare perché se le riforme cadono dall'alto evidentemente è un problema serio quindi questo come metodo diciamo che questo credo sia anche stato uno dei temi forti del colloquio tra Mattarella e Giorgia Meloni l'altro giorno cioè trovare una qualche forma di confronto e collaborazione tra il governo in questo caso e la magistratura lo dico da cittadino meno scontro ideologico su questi temi perché la responsabilità è di tutte le parti meno scontro ideologico e più pragmatismo per fare dei passi in avanti altrimenti si rimane ingessati difetta questo paese come dicevo da vent'anni in discussioni e non si mette mai le mani ad una riforma allora Paolo buongiorno è inutile che ti ricordi i titoli dei giornali di oggi ho sentito 47 48 gradi Roma un inferno eh ristabilisci un po' di sana verità stamattina un po' scherzando dicevo sarà veramente una settimana impossibile ma non per il caldo per l'informazione ah ecco per l'informazione allora intanto vediamo dove siamo ieri sono stati toccati i 41 gradi nelle zone interne della Sardegna meridionale decimo manno per intenderci tutte le altre città sono rimaste sotto questo limite anche così psicologico di 40 gradi le temperature aumenteranno nei prossimi giorni almeno fino a mercoledì quindi saranno più zone in cui si possono toccare i 40 gradi 47 è un'altra cosa è un altro mondo quindi vedremo se dove e quando si raggiungeranno quei livelli spararla così adesso poi avete visto la stampa estera preoccupatissima perché in Italia ci sono 47 gradi non è che non è che loro sono venuti a fare i calcoli loro dicono quello che la stampa italiana dice quindi poi diventa un gatto che si morde la cosa va bene allora al momento nuvole non ce ne sono al di là delle Alpi c'è un passaggio di qualche cosa non dà effetti significativi sull'Italia perché per la giornata di oggi anche sulle zone alpine nel pomeriggio dove di solito magari qualche qualche pioggia la fa se c'è è qualcosa per esempio sul Trentino nell'ordine dei due millimetri quindi capite insomma molto poco il resto del paese è sereno poco nuvoloso nella giornata di martedì forse qualche debole pioggia in più sulle zone alpine prende un poco anche il Veneto il Friuli Venezia Giulia meno sulla parte occidentale se non sempre sereno poco nuvoloso è più caldo ovviamente e infine mercoledì c'è qualcosa in più in questa zona perché c'è qualche fra il Trentino l'Alta Lombardia c'è qualche pioggia in più ma dipende dal fatto che al di là delle Alpi dove il clima è decisamente migliore c'è un po' di maltempo che passa se ne risente però sarà probabilmente la giornata un po' critica perché poi da giovedì in poi un leggero riassestamento delle temperature ci sarà noi ovviamente siamo qua per tenervi informati possibilmente con le notizie vere non con quelle fa senza fake news con le fake news e comunque fa caldo grazie vediamo dopo la pubblicità C'è qualche particolare che riguarda questo memorandum tra Unione Europea e Tunisia di cui abbiamo parlato all'inizio adesso vi darò conto di queste notizie che non sono proprio dettagli ma prima voglio chiedere Presidente Camille a voi ovviamente un paio di cose intanto l'Istat conferma il dato dell'inflazione a giugno 6,4% col carrello della spesa che è al 10,5% mi pare che siamo ancora alti Presidente sicuramente ancora il tasso di inflazione è alto per fortuna ci sono segnali di riduzione le proiezioni dicono che nella seconda parte dell'anno dovremmo scendere ulteriormente a un 4-5% c'è qualche segnale positivo che viene dall'estero gli Stati Uniti sono al 3% di inflazione però è una discesa sicuramente ancora troppo lenta che sta incidendo tantissimo sulle famiglie ovviamente e quindi sui redditi sta incidendo ancora moltissimo sul sistema delle imprese perché come è noto per riuscire a contenere l'inflazione c'è il rialzo dei tassi di interesse molto forte e ancora non si arresta anzi viene annunciato ancora un ulteriore aumento dei tassi questo genera un aumento del costo del denaro per famiglie per le imprese e questo sta generando peraltro una una scusi la wonderline se l'è presa un po' con le imprese ha detto questa è un'inflazione da profitti attenzione questo ha detto poi è rientrata un po' in questa polemica però insomma c'è chi mette all'indice molte le aziende a livello europeo è vero che diciamo l'aumento anche dei salari delle retribuzioni è inferiore rispetto all'aumento dei profitti purtroppo come al solito non è per il nostro paese questi sono dati OX e non sono dati nostri da noi diciamo l'aumento delle retribuzioni e l'aumento diciamo della ricchezza è stata tra salari e profitti praticamente è alla pari sostanzialmente perché scontiamo da sempre una scarsa produttività del lavoro e una scarsa produttività del paese quindi da questo punto di vista siamo un po' indietro il tema è un tema molto importante quindi rispinga il mittente diciamo no no non è che rispinga il mittente il tema dei salari è un tema molto importante il tema dell'inflazione è un tema delicatissimo perché sta aggravando e su questo insomma sono tante le proposte che ci sono e che noi stessi abbiamo fatto e quindi sicuramente è un tema che dobbiamo affrontare in maniera molto seria la discesa dell'inflazione è un fatto fondamentale dobbiamo stare attenti anche ad ad adottare politiche che non la facciano ripartire in maniera forte perché quella sarebbe un danno ancora maggiore sia per cittadini che per imprese quindi diciamo sono provvedimenti che vanno adottati con grande accuratezza stando anche un po' attenti a non generare troppa recessione in questo momento è vero che l'Italia dell'economia l'Italia sarà è cavata molto bene lo scorso anno anche quest'anno va meglio di Germania e Francia però ormai sono diversi mesi che soprattutto il mondo manufatturiero è sostanzialmente fermo se non in leggera riduzione di produzione le esportazioni stanno rallentando gli investimenti stanno rallentando quindi dobbiamo stare attenti che questo diciamo che non ci sia un eccesso di aumento dei tassi di interesse che causa che possa causare ovviamente anche un momento recessivo della nostra economia quindi è un bilanciamento forte molto attento che bisogna adottare Massimo che pensi della proposta che rilancia che non è inedita Salvini sulla pace fiscale dice insomma chi ha pendenze fino a 30 mila euro gli facciamo pagare una somma chiudiamo il contenzioso chi evade ha detto chi evade totalmente chi è sconosciuto al fisco ovviamente deve andare in galera questo ho un po' sintetizzato brutalmente in Salvini pensiero che pensi? io penso tutto il male possibile del sistema fiscale italiano per come si è configurato negli anni per come si sta aggraando detto questo io vorrei che si parlasse di sanatoria d'ora in poi solo in esclusivamente in una situazione cioè quella di una vera riforma fiscale perché denunciarne i mali e poi dire è giustamente per certi versi questo ha determinato una struttura in questo allora andiamo a sanare lì la situazione senza sanare invece l'origine del male secondo me è sbagliato e oggettivamente capisco quelli che pagano tutte le tasse e che ogni volta si risentono anche se le motivazioni sono anche giuste le attenuanti le cose per un certo tipo di evasione esistono io vorrei sentire parlare di sanatoria solo quando tu mi avrai delineato il quadro perché non porterà più a queste strutture allora qualcuno oggi nelle ricostruzioni dice attenzione questa è l'ennesima mossa di Salvini in concorrenza con Fratelli d'Italia visto proprio rispetto a quello che dicevi tu Massimo prima visto che la delega fiscale se ne occupa in prima persona il vice ministro Leo che è di Fratelli d'Italia e quindi perché adesso uscirsene con questa nuova nuova non inedita proposta Carmela sorella ma guarda prima sentivo il presidente che naturalmente dipingeva gli scenari parlando appunto di quello che accadrà con l'aumento dei tassi con la situazione che abbiamo con il fatto che non si scende il debito e quant'altro c'è un problema del quotidiano allora Salvini Lameloni benissimo c'è un problema del paese che io credo non dobbiamo trascurare perché queste cose sono sicuramente sul piano di quella che poi è non solo la cronaca ma anche il dibattito politico necessario ma qui ci troviamo in una situazione dove i prezzi non scendono il carrello della spesa è altissimo a proposito presidente lei diceva c'è un'equipollenza tra i salari e il rischio di impresa il fatto che praticamente anche il mondo dell'impresa si trovi in una certa situazione noi stiamo assistendo per esempio i due scioperi che ci sono stati traffico aereo ferroviario contratti che non si rinnovano da tre anni ma che vuol dire questo vuol dire che anche lì c'è un mancato adeguamento del percepito rispetto alla spesa e poi però ci sono dei profitti da paura stanno salendo in maniera esponenziale il costo dei biglietti aerei sale in modo esponenziale la possibilità di pagarsi lo spostamento in generale e qui ritorniamo anche alla migrazione però il concetto è che in una situazione come quella italiana con un debito smisurato come il nostro dove qualsiasi aggiustamento provoca dei contraccolpi incredibili è evidente che anche l'annuncio di un vediamo di sanare quello che vale poco e poi per tutto il resto per carità buttiamo la chiave sono segnali che rispetto a una popolazione è un po' affaticata in questo periodo e anche se vogliamo anche meno fiduciosa perché l'elemento in cui la politica deve investire è la fiducia per poter fare le cose e qui la fiducia scarseggia perché non ci sono segnali che la ispirino quindi da questo punto di vista ecco mi piacerebbe che sicuramente ci sono poi gli allupo allupo eccetera eccetera è fisiologico anche il ruolo del cattivo del buono è fisiologico la politica però è altrettanto vero che in questo momento servono indicazioni più chiare più certe e coerenti sento voglio dire su questo Angela Azzaro rapidamente però precedo la tua riflessione da quello che ha detto poco fa il gran capo dell'agenzia delle entrate che come sapete Ernesto Maria Ruffini ha detto questo deve essere chiaro il contrasto all'evasione non è volontà di perseguitare qualcuno l'agenzia è un'amministrazione dello Stato non è un'entità belligerante e dice ancora Ruffini è un fatto di giustizia nei confronti di tutti coloro che e sono la stragrande maggioranza sottolinea le tasse anno dopo anno le pagano e le hanno pagate sempre fino all'ultimo centesimo anche a costo di sacrifici e nonostante l'innegabile elevata pressione fiscale adesso non c'è riferimento a Salvini ma insomma l'ha detto poco fa Ruffini Angela a me sembra che questa sparata di Salvini rientri proprio in quello in una vera e propria propaganda appunto non in un progetto serio in una proposta seria più o meno contestabile anche perché insomma alla fine se nessuno paga le tasse nessuno paga i soldi al fisco chi ne perde il welfare ne perde tutto il paese quindi c'è una questione legata anche a quello che è il sostegno della spesa pubblica dei soldi che vanno poi distribuiti nel paese e su questa allora dico anche altre due cose uno sul salario minimo io penso che il salario minimo sia una questione di civiltà che prescinde anche da quello che sono i costi delle aziende stiamo parlando di 9 euro o allora cioè stiamo parlando del minimo proprio possibile immaginabile in uno in uno stato civile quindi non è che stiamo parlando chissà di quali aumenti salariali che comunque in Germania ci sono in Francia ci sono in Inghilterra ci sono ci sono ovunque fuori che in Italia stiamo parlando proprio del minimo sindacale la seconda questione appunto si continua a parlare di condoni sanatorie sul fisco quando c'è un paese che arranca in termini di povertà in termini appunto di impossibilità addirittura di fare la spesa su questo serviva sarebbe servita una politica che continuasse a portare avanti quello che abbiamo chiamato reddito di cittadinanza cioè un sostegno serio a tutte quelle famiglie a tutti quei cittadini a quelle cittadine che non ce la fanno anche se single aggiungo anche questa nota polemica perché non si capisce se uno uno è single perché non abbia diritto a avere una vita dignitosa come chi ha una famiglia e ha figli si va a punire anche le scelte di vita individuali questo veramente incomprensibile quindi il tema del fisco unito però anche a un'idea di paese di sostegno a tutte quelle fasce che non ce la fanno in questo il salario minimo mi sembra un segnale fondamentale sinceramente non capisco perché la destra non lo faccia proprio perché non non aderisca a questa proposta perché dal punto di vista razionale non riesca a capire le obiezioni che vengono Allora aspetta aspetta che ho da fare due domande flash in chiusura sia Camilia che Carmela Sorella Camili proprio lapidario voi non siete contro il salario minimo mi pare di aver capito Allora guardi non è che non siamo contro diciamo noi abbiamo sempre detto in questo periodo non abbiamo un problema di questo genere quello che rappresenta Confindustria i nostri contratti sono tutti sopra i 9 euro l'ora di cui si parla il tema vero do qualche cifra i lavoratori privati i dipendenti privati in Italia sono 13 milioni e mezzo noi ne rappresentiamo 5 e mezzo con 61 contratti dei quali il 90% già rinnovati quindi anche questo volevo dire l'impegno è massimo nel rinnovo dei contratti per adeguarli all'inflazione gli altri 7 milioni e mezzo hanno quasi mille contratti allora il problema sono i contratti privati l'uniformità dei contratti del settore bisogna avere anche qui il coraggio di mettere le mani su una riforma complessiva del mondo del lavoro e mettere le mani su tutta una serie di contratti e questo lo possono fare tranquillamente le parti sociali i sindacati insieme alle parti datoriali questo è il tema di fondo e l'altro per quello che riguarda l'adeguamento dei salari certamente c'è il tema dei contratti e come dicevo il nostro impegno è massimo oltre il 90% sono già rinnovati la parte rimanente è nei 12 mesi che è un tempo fisiologico per farlo l'altro tema bisogna spingere sulla produttività sulla premialità sulla produttività bisogna spingere su premialità e decontribuzione su assunzioni di giovani e donne e bisogna spingere molto su una proposta che stiamo facendo da tanto tempo che potrebbe mettere parecchi soldi nelle tasche dei dipendenti che è l'abbattimento del cuneo fiscale voi avete chiesto molte più risorse per abbattere il cuneo fiscale mi dice proprio secco mi pare a novembre c'è la giudicazione di Expo 2030 Roma in Lizza Riad è l'avversario più temibile ma in cuor suo ce la farà a Roma? beh ci deve essere ottimismo naturalmente noi l'abbiamo proposta nel 2020 siamo contenti che la candidatura sia andata avanti direi c'è un presupposto importante che vale per tutte queste candidature che è una buona sintonia istituzionale governo regione comune stanno lavorando assieme su questa candidatura senza di questo diventa quasi impossibile questo non è sufficiente la certezza non ce l'ha da nessuna però c'è un certo ottimismo allora editato va da Francesco Magnani pronto per l'area che tira ciao Francesco buongiorno buongiorno buon inizio di settimana a te Andrea ripartiamo dai migranti la firma ieri a Tunisi con Giorgia Meloni i vertici europei e il presidente tunisino peraltro riceve un plauso oggi da Marco Minniti il primo a stipulare un patto per fermare i migranti con la Libia ma vi racconteremo anche i problemi che l'accoglienza dei migranti sta tornando a creare nei territori poi analizzeremo i grandi appuntamenti politici del fine settimana e l'ischline a Napoli con il rischio della spaccatura con l'anima campana delucchiana del partito e il consiglio nazionale di Forza Italia eventi che arrivano in un'estate segnata non soltanto dagli entusiasmi del calcio al mercato non parleremo di Lukaku ma parleremo di tanti movimenti proprio mentre in diretta Calenda annuncia l'ingresso in azione di Alessio D'Amato poi oggi due mesi dall'alluvione in Emilia Romagna faremo il punto di come sta procedendo l'avvio della ricostruzione e tante storie tanti collegamenti e faremo un confronto anche su come è stato in diretta la ricostruzione del terremoto dell'Aquila tanti gli ospiti con noi Chiara Geloni Francesco Borgonovo Ettore Rosato e ancora il sindaco di Cesena Enzo Lattuca Erasmo D'Angelis che fu capo dell'unità di missione Italia Sicura e ci viene a trovare anche il presidente del Friuli nonché presidente della conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga questo e tanto altro tra poco all'aria che ti restate Grazie a proposito del memorandum tra Europa e Tunisia non trasferiremo i soldi alle autorità tunisine per disporne come vogliono dice un alto funzionario dell'Unione Europea quindi ad esempio le risorse a sostegno della Tunisia non arriveranno come un assegno ma verranno erogate per programmi di formazione di investimenti e lo stesso vale per la migrazione sulla quale non staccheremo alcun assegno alle autorità tunisine e si fa sapere inoltre che col memorandum firmato ieri non si prevede che vengano rimpatriati in Tunisia migranti non tunisini perché il paese nordafricano non è un punto di raccolta per i migranti irregolari nell'Unione Europea inoltre l'Unione Europea fornirà alla Tunisia otto imbarcazioni di pattugliamento per la ricerca e il salvataggio di migranti in mare e dei droni anche Carmela Sorella siccome sei bravissima e fai televisione da sempre un promo per Vera e gli schiavi del terzo millennio il tuo libro allora Vera eccolo qui è un libro dove si cerca la giustizia ne abbiamo parlato si lotta per la verità ci si impegna nel nome dei diritti quindi sono elementi che accompagnano la vita degli uomini a tutte le latitudini puntando su una cosa molto particolare gli elementi di vicinanza tra le culture le realtà geografiche sono molto maggiori che quelli di differenza e noi viviamo nell'era informatica l'informatica per un verso è un pericolo per l'altro ci può aiutare qui se ne parla grazie grazie Giulia subito alla reggaettina noi ci vediamo domani stesso luogo stessa ora grazie